E' diventata virale la foto che ritrae sua santità Papa Francesco e J Balvin, un selfie vero e proprio, ha letteralmente mandato in tista Instagram, lo scatto è diventato virale, centinaia di migliaia di persone che lo hanno condiviso o meglio commentato ed anche messo un bel like, un bel mi piace, il buon Balvin è stato paparazzato in Vaticano e a Roma, con un incontro importante tra lui e il Santo Padre, piuttosto elegante nell'ambito del abito sfoggiato, ha voluto racchiudere proprio in questo selfie tutta la bellezza che ci può essere dietro la conoscenza con sua santità, il nostro amato Papa Francesco, l'indicabile di Cristo per eccellenza. La foto è diventata virale, lo sguardo è un sguardo felice, soddisfatto sia da parte di Papa Francesco che era il giante giurivo e con un bellissimo sorriso sfoggia tranquillamente questa sua immagine che è anche del buon Jay Balvin che risulta piuttosto felice, soddisfatto e contento. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi al canale, andate al tuo italiano comunitario, un saluto per carabuogli e al prossimo video.